Devo andare amore, sono in casa di preparazione Mattei disse, ah la regione... Ok Donna, vuoi andatene via? Vuoi andatene via che sto... Un attimo, ve ne sto andando Allora, Madena diceva, ah la regione della Rabin è molto carina, ma ci farebbe bella per dei piedi Gloria dice, forza Emma, sento della musica, dove c'è la musica? C'è la gente Allora, Martina dice, questa musica sembra procedere da punto, avanti a noi, andiamo a controllare Alexi dice, forse riusciremo finalmente a parlare con anche Riposabile Adesso 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 Grazie a tutti. 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 Porca Madonna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Porca Madonna. Porco Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... 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 Grazie a tutti. e... 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 Oh no... e... 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 Anche! 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 Anche!